Quanto deve durare un video annuncio su YouTube? Questa è una domanda che mi viene fatta spesso da parte di tanti clienti con i quali partiamo a fare le campagne. Bene, in questo video ti do la mia opinione. Ciao, sono Paolo e in questo video parliamo di annunci su YouTube e cerchiamo di capire quale può essere la durata ideale. Innanzitutto facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire che cosa si intende per annunci video. Come saprai YouTube è un motore di ricerca, quindi i nostri contenuti possiamo indicizzarli e posizionarli dal punto di vista organico e le visualizzazioni che otterremo saranno appunto organiche, cioè visualizzazioni da parte di persone che cercano argomenti su YouTube oppure i video vengono proposti loro e appunto queste persone guardando i video ci fanno tra virgolette guadagnare una visualizzazione. Tuttavia così come il suo fratello maggiore Google anche YouTube ha una parte a pagamento, quindi possiamo creare campagne da un lato per aumentare la visibilità del nostro canale e dall'altro anche per generare contatti se abbiamo un'attività e vogliamo appunto proporre dei prodotti e dei servizi. Di questo l'ho già parlato anche in altri video quindi dovrebbe essere una cosa che conosci già ma se non fosse il caso appunto ti ho riassunto in maniera molto sintetica l'argomento poi se avrai voglia potrai andare a vedere gli altri video in cui vado più nel dettaglio. Parlando quindi di campagne a pagamento e andando un attimino nel tecnico quando inizi a lavorare con i clienti una domanda che mi viene posta è ma quanto deve durare un annuncio? Innanzitutto facciamo una distinzione se parliamo di campagne per aumentare la visibilità quindi per aumentare le visualizzazioni del nostro canale uno dei formati che viene più spesso utilizzato è il formato chiamato in feed quindi il nostro video che abbiamo caricato organicamente diventa a tutti gli effetti un annuncio che viene promosso attraverso queste campagne quindi come se dessimo un boost, una promozione aggiuntiva grazie al budget che appunto impostiamo all'interno delle campagne. In questo caso è chiaro che non c'è il dubbio su quale possa essere la durata perché ovviamente è un video che abbiamo già realizzato per il nostro canale ed è già un video che magari sta girando dal punto di vista organico quindi lasciamo un attimino questa cosa da parte e focalizziamoci invece sull'altra tipologia di annunci quella che tante persone non amano particolarmente gli annunci schippabili oppure gli annunci non ignorabili. Parlando di annunci non schippabili quindi quelli che le persone non possono saltare e se li devono guardare tutti abbiamo una durata che deve essere entro i 15 secondi ok quindi se vogliamo utilizzare questa tipologia di campagne devi realizzare un video appunto che sia entro i 15 secondi. Tra parentesi una cosa che avrei dovuto dirti anche un attimo prima tutto quello che ti dirò in questo video vale ad oggi ok al momento di registrare questo video le cose potrebbero variare nei mesi successivi e quindi diciamo se guardi questo video fra qualche mese tieni presente che qualcosa potrebbe essere modificato però le cose che abbiamo visto fino adesso e che ti dirò oggi diciamo che sono invariate da abbastanza tempo ok quindi da qualche anno ed è quindi probabile che google e youtube non vadano a rivoluzionare tutto quanto nelle prossime settimane ok chiusa parentesi quindi abbiamo detto campagne video non schippabili che le persone non possono ignorare devono guardare per tutti i 15 secondi appunto i video deve essere entro i 15 secondi. L'altra tipologia di video invece che interrompe la visione delle persone sono gli annunci in stream qui non abbiamo una regola di durata possiamo farli durare pochi secondi così come addirittura un'ora e passa come mi è capitato di vedere in passato ogni tanto ed è quindi naturale che sorga la domanda ok quindi quanto lo faccio durare lo faccio durare un'ora così dico tutto quello che devo dire in una volta sola lo faccio durare dieci secondi perché devo solo attirare l'attenzione e poi portarli sul mio sito oppure lo faccio durare tre quattro minuti così posso aggiungere qualcosa al video posso un attimino argomentare posso portare degli esempi eccetera eccetera insomma questo è il nocciolo della questione di cui dobbiamo parlare oggi. Andando qui sul pratico ti posso dire che secondo la mia esperienza dopo aver gestito tantissime campagne possiamo fare un distinguo possiamo distinguere tra campagne di remarketing ossia campagne che colpiscono persone che già ti conoscono in qualche modo che hanno visto un tuo video in passato che sono iscritte al tuo canale che hanno magari visitato il tuo sito insomma che hanno già interagito in un qualche modo in questa situazione allora video possono essere anche brevi intorno ai 60 90 secondi possono andare bene e chiaramente qual è il motivo che ci sta dietro molto semplice è quello che nel marketing viene definito un pubblico un po più caldo nel senso che sono persone che già ti conoscono quindi se realizzi video intorno ai 60 90 secondi riesci comunque a comunicare un messaggio che queste persone riescano a capire riescono a elaborare e poi possono fare il passo successivo ad esempio abbiamo usato tantissime volte queste campagne quando alcuni miei clienti devono lanciare un evento che sia online oppure offline o magari devono appunto mostrare questi annunci a persone che li hanno già conosciuti attraverso altre campagne magari fatte su facebook che li hanno portati sul loro sito web e li abbiamo ritargettizzati su youtube ecco in questa situazione questi annunci queste campagne per meglio dire di remarketing possono essere costituite da annunci appunto intorno ai 60 90 secondi quindi questo per quanto riguarda le campagne di remarketing tutta altra storia invece campagne che vanno a colpire un pubblico chiamato freddo nel senso persone che non ti hanno mai visto non sanno chi sei non sanno che prodotti servizi offri di conseguenza non sanno neanche che problema risolvi ecco andare a cercare di catturare l'attenzione di queste persone cercare di fare in modo che ti stiano ad ascoltare cercare di fare in modo di persuaderle a fare il passo successivo che potrebbe essere contattarti che potrebbe essere guardare un video un po più lungo in seguito che potrebbe essere scaricare risorse gratuite eccetera insomma è sicuramente molto più difficile rispetto a un pubblico che già ti conosce magari da anni ok quindi è un mondo completamente diverso è quasi uno sport diverso diciamo così in questa situazione secondo la mia esperienza è molto molto difficile riuscire a fare tutto questo in un video che sia sotto ad esempio i 60 secondi perché appunto le persone ancora non ti conoscono e non sanno cosa fai per questo motivo quando ci rivolgiamo con i miei clienti e facciamo campagne sul pubblico a freddo cerchiamo di stare intorno a una durata che non sia inferiore ai due minuti e mezzo tre minuti poi dipende chiaramente a seconda del tipo di pubblico di quanto è più o meno consapevole di quello che vogliamo offrire come passo successivo insomma ci sono tante variabili che entrano in gioco però la morale è sempre quella dobbiamo comunque avere tutta una serie di step che dobbiamo mettere insieme per innanzitutto attirare l'attenzione delle persone per fare in modo che ci stiano ad ascoltare per fare in modo che ci credano quando gli diciamo alcune cose quindi aggiungere un po' di autorevolezza quello che stiamo dicendo magari con delle testimonianze quindi aggiungiamo anche un po' di social proof insomma abbiamo tutta una serie di elementi che dobbiamo aggiungere a questo video che inevitabilmente lo fanno durare due minuti e mezzo tre minuti delle volte anche cinque minuti quindi la domanda che dovresti farti è qual è lo scopo di questa campagna qual è lo scopo di questo video prima di cercare di capire qual è la durata che dovrebbe avere se stai andando ancora una volta su un pubblico a freddo devi metterti nella mentalità di chi andrà a vedere questo annuncio e cercare di mettere insieme tutti i pezzi per far sì che appunto da persona sconosciuta tu diventi persona conosciuta seppur virtualmente e poi convincere persone a fare il prossimo passaggio viceversa persone che già ti conoscono possono starti ad ascoltare molto più facilmente quindi puoi essere un filino più conciso quando quindi hai capito qual è l'obiettivo dopo puoi decidere la durata chiaramente con uno script che sia adeguato che sia adatto a fare questa tipologia di campagne e di questo ne possiamo parlare anche in un altro video ultima cosa che voglio dirti oggi è tieni presente che le indicazioni che ti ho dato oggi sono abbastanza generiche perché non so chi sei non so cosa fai non so chi ti rivolgi che cosa proponi eccetera eccetera quindi ho cercato di darti una ricetta tra virgolette che ho visto funzionare molto bene nel corso del tempo detto questo la parola chiave nel marketing è sempre testare quindi bisogna testare 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 tutti gli elementi delle nostre campagne a partire in questo caso visto che è quello di cui stiamo parlando oggi dagli annunci quindi ti ho dato un esempio di durata però chiaramente puoi testare renderlo un po' più corto un po' più lungo fare delle prove e poi chiaramente devi misurare i risultati per capire che cosa funziona meglio bene spero con questo video di aver fatto un po' di chiarezza questa è una delle domande che viene posta tantissime volte quando dobbiamo iniziare a fare delle campagne giustamente quindi se per caso ti stessi chiedendo questa cosa oggi hai avuto la risposta fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi ti ricordo anche di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto seguimi anche su facebook e su instagram visita il mio sito paologrisendi.com qui sotto troverai un link per un training gratuito di oltre un'ora in cui ti spiego le tecniche e strategie che io e i miei clienti usiamo ogni giorno per trovare nuovi clienti grazie ai video e grazie a youtube ci vediamo nel prossimo video a presto ciao ciao Grazie a tutti.